Un tempo strada pericolosa, oggi la via Mala in Valle di Scalve è un percorso naturalistico del quale è stato messo in sicurezza un solo lotto per i restanti tratti, servono importanti risorse. Col Zate, i ragazzi del Cresso Non Lavoro stanno realizzando un murales lungo la ciclabile. Nonostante le previsioni del tempo avverse, mantiene i numeri della scorsa edizione la lungola goloso di Pisogne. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Incidente lungo la provinciale della Valle Seriana, poco dopo le 15 di oggi, nel territorio del comune di Casnigo, in località Ponte del Costone, una golfe è uscita di strada scontrandosi contro il muretto a margine della carreggiata e terminando la corsa contro la barriera metallica. L'incidente ha causato rallentamenti sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il conducente, nonostante l'automobile sia irremediabilmente compromessa, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ora andiamo a Gandino. Possono tirare un sospiro di sollievo le quattro famiglie residenti, così come i proprietari di seconde case e gli escursionisti. Nei prossimi giorni la strada che dal fondo valle sale fino a Valpiana sarà riaperta. La chiusura era scattata 20 giorni fa, il 2 luglio, a causa di una frana che aveva invaso la carreggiata per via delle forti piogge di inizio mese. Lo smottamento si era verificato a monte della località Tiroal Bersaglio, a poche centinaia di metri dall'abitato di Gandino, ma a preoccupare era soprattutto l'erosione di un tratto della strada soprastante in località Clusven. Dopo i lavori di queste settimane, nella mattinata di oggi, si è svolto un sopraluogo teso a verificare l'avanzamento e la stabilizzazione dei lavori di consolidamento emessa in sicurezza del tratto di carreggiata in zona Clusven. In un primo tempo si pensava che la strada potesse riaprire all'inizio della prossima settimana. Poi è arrivata la comunicazione che dalle 8 di domani, sabato 23 luglio, sarà consentito il transito solo alle auto. Il Comune di Gandino sottolinea che mezzi di dimensioni e peso maggiori non avranno la possibilità materiale di transitare. Si correrebbe il serio rischio di compromettere sicurezza e lavori effettuati in queste settimane. Con un investimento complessivo di 2 milioni 400 mila euro nel 2011 è stato aperto un tratto della Via Mala, la pericolosa strada di collegamento con la Valle Camonica, dismessa con l'apertura delle gallerie a servizio della Valle di Scalve. La Via Mala da allora è un percorso panoramico. Se volete fare una bella passeggiata, in Valle di Scalve c'è un percorso interessante su quella che un tempo era una delle strade più spettacolari d'Europa, la Via Mala. Salendo dalle Valle Camonica dopo angolo terme, tra gli imbocchi dei tunnel stradali c'è un parcheggio vicino a una casa cantoniera, da cui si può accedere al vertiginoso percorso del quale per ora è stato riqualificato solo un lotto. La strada venne realizzata nel 1861 permettendo così agli abitanti un'alternativa al sentiero lungo, in alcuni tratti non più largo di 80 centimetri, pista un tempo impiegata per portare a valle i minerali estratti in Valle di Scalve. Amata e odiata da chi doveva percorrerla, apprezzata per la sua bellezza, temuta per le insidie in caso di forti eventi atmosferici, la Via Mala venne dismessa con l'apertura delle vicine gallerie. La Via Mala oggi è tuttavia un percorso spettacolare per il suo panorama, una lingua di asfalto a mezza costa e in alcuni tratti scavato nella roccia a picco. Per chi non ha problemi a guardare giù si possono apprezzare le meraviglie del paesaggio, orridi, forre e marmitte. Presso l'ex casa cantoniera, oltre a ristorarsi, è possibile trovare informazioni sul posto. Ora è stato recuperato un chilometro dalla vecchia strada a modi percorso pedonale, lungo lo stesso si può ovviamente apprezzare l'aspetto geologico che è l'elemento determinante, per enfatizzare i dislivelli è stato creato un balcone panoramico che è sicuramente molto d'effetto. Il percorso, come dicevo, si sviluppa per circa un chilometro ma oggettivamente la Via Mala ha uno sviluppo di circa 12 chilometri. Le restanti chilometri ovviamente non sono attualmente in ordine ma sono sicuramente oggetto di parecchi escursionisti i quali con calma apprezzano questa situazione molto particolare che è presto raggiungibile con 10 minuti d'auto da Boario Terme. Si entra praticamente in una situazione anche climatica molto particolare che soprattutto nel periodo invernale vuol significare delle vere e proprie colate di ghiaccio. La ricchezza d'acqua apprezzabile durante tutto l'anno nel periodo invernale si trasforma appunto in cascate gigantesche e alcune anche delle quali scalabili. Noi oggettivamente rientriamo in quello che è la strada verde che fa parte dell'Ecomuseo delle Orobbie, un progetto d'area che coinvolge tutta la Val di Scalve, Alta Val Seriana e parte della Valle Camonica e nulla siamo di fatto sul fondo val e siamo un po' l'ingresso diciamo di quella che è la Val di Scalve. Oggettivamente all'interno della struttura che è il recupero di un'ex casa cantoniera, al di là di quello che è il discorso della somministrazione, diamo informazioni sul territorio, informazioni più che altro dal punto di vista se vogliamo culturale, dei divertimenti, delle possibili passeggiate e così via, noi stessi organizziamo delle visite guilate sia lungo la Via Mala sia all'interno della Val di Scalve. Quindi quello che oggi è un bel percorso panoramico un tempo era l'unica strada di collegamento della Valle di Scalve con la Valle Camonica. Sì, diciamo che il tratto attrezzato a modo di percorso pedonale è stato operativo fino al 1983, anno poi di apertura della galleria. Quello che solitamente colpisce l'utente sono le dimensioni delle stesse gallerie, paravalanghe piuttosto che calibro stradale. Non ci si dimentichi che qua fino al 1983 transitava tutto il traffico da e per la Val di Scalve. L'attività mineraria stessa che è continuata fino ai primissimi anni Ottanta faceva sì che si sfruttavano queste strade per il trasporto del minerale e questo solitamente colpisce proprio per le dimensioni e per le caratteristiche. Come ti dicevo prima, non ci si dimentichi che si arriva ad avere un centinaio di metri di salto dalla strada al fondo valle in situazioni molto particolari, soprattutto durante il periodo invernale. E a proposito del tratto che andrebbe completato, abbiamo raccolto un commento del Presidente della Comunità Montana di Scalve, Guido Giudici. Il percorso naturalistico della Via Mala in Vale di Scalve è sicuramente un'opportunità per il territorio, ma ci sono prospettive in futuro? Prospettive sì, dipende un attimino da quanto animo e da quanto intraprendenza ci mettono gli amministratori, chiaramente sia quelli della Val di Scalve che quelli del Comune di Angolo lì sotto, perché poi il percorso naturalistico si snova lungo tutto la vecchia strada statale Anas che poi è stata messa in disuso e che può essere utilizzata sia come ciclo pedonale ma anche come passaggio pedonale. Lì è stato fatto il primo intervento che però era all'interno di un'operazione che prevedeva tre lotti. Il primo lotto chiaramente è quello lì, il secondo era da lì fino alle vere proprio capanne come si chiamavano in dialetto, dove proprio la strada era stata ricavata all'interno della roccia quindi la zona più suggestiva che si è quella lì con quegli oridi che sono bellissimi soprattutto al di là dei colori ma dell'acqua pulita che ci passa sotto ha alcune suggestioni ma la parte più suggestiva è quella a monte ci sono i progetti di fattibilità già in comunità montana, già fatti allora di questi tre lotti però le difficoltà economiche sono quelle che sono sia perché questi erano fondi europei sia perché bisognerebbe poi vedere di riuscire a trovarne degli altri non è una cosa semplice però secondo me è fattibile anche se poi una volta realizzato fa molta fatica a essere valorizzato adesso abbiamo corretto un attimo l'ingresso e l'uscita con la sosta lì dove c'è l'ex casa cantoniera è già un'accessibilità migliore che prima non c'era però andrebbe valorizzato in un complesso con una logica che secondo me ci sta perché oridi così non è che ce ne siano molti, così belli, così fruibili e poi dal fatto anche che poi si era stato proposto però poi resa anche una ferrata invernale in mezzo a quei ghiacci che poi suggestivamente d'inverno si formano in quegli strapiombi era una cosa che secondo noi poteva avere un senso poi è il primo biglietto da visita di chi entra in Val di Scalve quindi direi che le premesse ci sono citate di avere le gambe per camminare e bisognerà poi essere in grado di trovarle e valorizzarle è chiaro che poi di fronte ci sono anche le critiche uno dice spendiamo tanti soldi lì magari invece se li spendesse per la quinta galleria in fondo che serve sì, questo ci hanno anche ragione però dal punto di vista logistico forse l'una e l'altra cosa andrebbero perseguite non è una cosa facile ma andrebbe fatta quindi lasciamo anche a quelli che vengono dopo di noi qualcosa da fare i ragazzi del CRE di Colzate in questi giorni sono a lavoro con pennelli, rulli e tanto colore stanno realizzando un bel murales lungo la pista ciclopedonale i ragazzi del CRE di Colzate con i loro animatori naturalmente in questi giorni stanno lavorando a dei murales vicino alla pista ciclabile della Val Seriana com'è nata questa idea? questa idea è nata principalmente dalla richiesta della ditta Uni che ci ha commissionato questo lavoro a noi ragazzi perché aveva il desiderio di dipingere con qualcosa di carino e significativo il muro che aveva di fronte che era spesso imbrattato da scritte e abbiamo deciso di seguire l'idea di fondo del CRE quindi il tema principale di quest'anno che era l'idea del viaggio e quindi abbiamo pensato di disegnare il planisfero da dove partiva questa aereo, questa traiettoria, questa rotta che ci portava direttamente al nostro paese quindi all'isolotto che comprendeva il paese di Colzate sul quale abbiamo poi deciso di disegnare i principali monumenti e le principali fonti di interesse dal nostro paese quindi cercando di dargli un po' di rilievo e di importanza perciò abbiamo messo il comune affiancato dalla chiesa il santuario di San Patrizio i 24 pali che ricordano il mitragliamento del treno la cappelletta della pisonda e il frutteto che sono un po' i luoghi di interesse del nostro paese Importante sottolineare la collaborazione tra diverse realtà del paese Esatto Il murales è grazie a tre enti principali del paese innanzitutto dal committente, cioè la Uni in secondo luogo dal comune che ha accettato il progetto e poi dall'oratorio al quale è stato affidato il progetto infatti lo stiamo realizzando noi del Credicolzate siamo due educatrici, due animatori e tre ragazzi Da quanto ci state lavorando e quando pensate di finire? È un lavoro che ha richiesto per ora tre settimane un mese di lavoro e speriamo di riuscire a finirlo entro fine mese in modo da lasciare anche alle persone che passano un ricordo e un segno del nostro paese Ieri sera a Pisogne è andata in scena la lungolagoloso manifestazione enogastronomica promossa dalla Proloco che anche quest'anno ha messo in moto numerosi volontari e ha potuto beneficiare della collaborazione a titolo gratuito dei ristoranti della località Un'altra bella manifestazione per Pisogne Per Pisogne ma per tutto il territorio del Sebino perché Pisogne è oggi l'artefice della promozione dei prodotti dell'enogastronomia locale non solo di Pisogne ma dell'intero Sebino e della Valle Camonica quindi una piazza che si presta a promuovere il territorio un lungolago stupendo quindi un ambiente fantastico Pisogne è protagonista non solo dell'arte ma anche dell'aspetto culinario e quindi dell'enogastronomia Tutto ciò che promuove il territorio bisogna e riesce ad ospitarlo e farsi promotore L'abbiamo trovata ancora a spalla con i volontari La Proloco è un braccio operativo del comune, dell'amministrazione comunale I tanti volontari bisogna ringraziarli perché dedicano del tempo dedicano con passione un lavoro che mai potrà trovare un ringraziamento migliore perché veramente sono degli operatori fantastici e quindi un ringraziamento l'amministrazione comunale non è solo doveroso ma è un ringraziamento sentito Sta andando molto bene ormai, stasera lo conferma, lungo la Golosa un'iniziativa che oltre ad essere diventata un punto di riferimento tra gli eventi enogastronomici del Sebino ha una costante in termini di partecipanti Le notizie meteo avverse non hanno preoccupato i partecipanti abbiamo, crediamo, raggiunto il livello dell'anno scorso se non superato quindi a conferma del trend in crescita e quindi un modo per premiare gli sforzi che sono stati fatti Ci tengo infatti a precisare che ci sono dei volontari che sono operativi da stamattina alle sei e mezza e resteranno full time operativi fino alle tre questa notte giusto per dare l'idea dell'impegno che richiede un'iniziativa di questo tipo Per noi quindi è una soddisfazione raggiungere questi numeri e uno stimolo a continuare in questo modo Un ringraziamento, e questo ci tengo a specificarlo sempre va ai ristoranti, il merito è loro Noi ci mettiamo il motore ma loro ci mettono tutto il resto nel senso che il contributo in termini di tempo, di risorse di risorse di denaro e di risorse in termini di persone lo mettono loro Questa iniziativa non si potrebbe realizzare senza i ristoranti di bisogne anche quest'anno siamo riusciti ad avere ristoranti solo ed esclusivamente di bisogne che partecipano gratuitamente a testimonianza quindi di quanto anche loro credono nella valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico Ecco, dietro c'è un grande lavoro da parte dei ristoratori ma anche dai numerosi volontari Eh sì, i nostri volontari sono la nostra forza ci permettono di preparare questi eventi che sono piuttosto impegnativi e ci supportano costantemente perché il lavoro che si fa dietro una manifestazione come questa è parecchio c'è un grosso lavoro di preparazione e poi c'è un grosso lavoro durante la manifestazione e dopo noi ci fermiamo fino a notte fonda per lasciare tutto pulito e questo grazie veramente veramente un grande grazie a chi ci aiuta in questo senso Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 Anche oggi il pranzo di nozze rappresenta un'occasione importante ma quando il cibo non abbondava sulle tavole lo era ancora di più Per fare rivivere quello che rappresentava questo momento domenica 24 luglio è in programma la seconda edizione del Mangia Despus nel 900 manifestazione in scena a Piario Domenica a Piario torna il Mangia Despus la seconda edizione che cosa succederà? Dunque, domenica mattina alle 10.30 innanzitutto ci sarà questo ricevimento delle persone che si iscriveranno a questo evento tramite appunto l'ufficio di promoserio, il numero mobile di Artelier a questo che fa parte dei percorsi turistici e culturali dell'estate 2016 Successivamente ci sarà un corteo che andrà a prendere la sposa in una casa urale per poi portarla nell'aia della casa museo della compagnia del Fil de Fer di Piario Il titolo è appunto Mangia Despus nel 900 perché poi i partecipanti potranno appunto prendere parte ad un tipico banchetto di matrimonio dei primi del XX secolo Quindi ci saranno persone comparse in costume d'epoca ci saranno pietanze proprio tipiche dell'epoca con tutte le curiosità proprio nostre riguardo a quello che era il cibo che si consumava durante un giorno di festa così importante Ci sarà poi anche la possibilità di visitare la casa museo? Assolutamente, appunto non mancherà una visita guidata dedicata proprio al tema del matrimonio ma anche a tutto questo che è questo ambiente che è rimasto ancora come tale la casa è di origine cinquecentesca mentre appunto gli arredamenti piuttosto che quelli che sono gli oggetti tipici della vita quotidiana dell'epoca conservati vanno appunto dall'Ottocento in poi quindi sarà un'occasione per fare un salto nel passato partecipando anche ad un evento molto speciale perché appunto vedremo anche di che colore era, scusate, l'abito da sposa dell'epoca come si svolgeva proprio la festa del matrimonio la compagnia del fil de ferro mancherà anche appunto di mostrare alcune curiosità che erano tipiche come spiegavo appunto di questo giorno che era un evento talmente importante proprio per la vita dell'epoca che segnava proprio la storia delle persone un grazie quindi all'amministrazione comunale di Piario che ha accolto di buon grado la proposta di rimettere in scena questa rievocazione Mangia d'Espus nel 900 e per tutte le persone che volessero iscriversi è possibile contattare il numero mobile di Artelier oppure l'ufficio dello IAT di Ponte Nostra di Promo Serio vi aspettiamo sperando appunto che sia un successo quanto l'è stato lo scorso anno Alla dodicesima edizione di Ardesio Divino in programma sabato 6 e domenica 7 agosto nel paese dell'Alta Valle Seriana saranno presenti anche due fratelli inglesi i vincitori del concorso Senza Frontiere promosso dalla Proloco Ci stiamo avvicinando alla dodicesima edizione di Ardesio Divino manca ancora qualche settimana ma ci sono già i vincitori del concorso che avete lanciato quest'anno legato alla manifestazione Esatto, quest'anno abbiamo voluto lanciare un concorso in Inghilterra in UK e la cosa positiva è naturalmente che ha prodotto a livello mediatico un risvolto davvero impressionante che anche tra di noi organizzatori ci ha un po' sorpreso il fatto che proponendo una manifestazione come Ardesio Divino quindi una manifestazione in provincia di Bergamo quindi in Italia all'estero ha prodotto davvero un risvolto mediatico impressionante i numeri dei mi piace, dei commenti e delle condivisioni in Facebook sono stati davvero incredibili anche Instagram ha fatto la sua ha registrato davvero tante, tante, tante registrazioni alla pagina Vivi Ardesio ma soprattutto tanti mi piace alle foto che venivano pubblicate proprio perché volevamo la condivisione da parte degli amici inglesi questo concorso era dedicato proprio a loro solo ed esclusivamente a una coppia inglese che doveva mettere mi piace, condividere, commentare quindi tutte e tre le azioni permesse da Facebook alla fotografia che avevamo deciso di utilizzare come prodotto principale per questo concorso hanno vinto una coppia di Birmingham però la signora non può scendere la ragazza non può scendere hanno sui 43-44 anni verranno il marito insieme al fratello Brian e Roger che vengono da Birmingham lui lavora in banca sono appassionati di vino sono appassionati ma non effettivamente conoscitori del prodotto vino anche perché in Inghilterra lo sapete non è una delle materie prime più conosciute però naturalmente apprezzano l'Italia e scopriranno Ardesio questa è la cosa importante la cosa anche singolare è che non sono proprio mai stati nemmeno nella nostra zona e non conoscono, non conoscevano nemmeno Bergamo quindi questo è un dato ancora importante siamo pronti per riceverli andremo a prenderli il 5 di agosto all'aeroporto di Orio li porteremo all'albergo Ardesio da Giorgio dove alloggeranno per due giorni li faremo partecipare naturalmente alla cena divina di venerdì sera e poi gli daremo due ingressi omaggio per il sabato e per la domenica per gustarsi appieno la due giorni di Ardesio di Vino voglio dire che questo è stato un tentativo voluto da Simone Biffi dal sottoscritto e dall'allora sindaco Alberto Bigoni per portare qualcuno dall'estero ad Ardesio di Vino ce l'abbiamo fatta, è stato a livello anche economico abbastanza impegnativo ma ringrazio i ragazzi della Proloco che hanno sostenuto l'iniziativa e stiamo già pensando per l'anno prossimo di riproporla magari con più gente o più concorsi però a livello nazionale quindi senza avere il problema tra virgolette del costo del biglietto aereo perché ripeto offriamo tutto noi magari al posto di farne un concorso per due persone per l'edizione 2017 magari lo faremo per 20 persone però l'importante è portare, portare, portare gente ad Ardesio, gente all'Ardesio di Vino gente in Valseriana e ora continuiamo con la rubrica Erbe e Salute a cura della dottoressa Antonella Agostini Buonasera, anche questa sera vorrei esaminare con voi dei rimedi naturali che potete utilizzare per un'altra patologia che ci affligge soprattutto durante l'estate e sto parlando della cistite a volte ne soffriamo proprio per eccessivo caldo o indumenti magari troppo stretti eccessiva sudorazione possono provocare un deposito di batteri oppure ancora beviamo troppo poco e con questo caldo trattenendo i liquidi tratteniamo anche i nostri batteri per quanto riguarda quindi piccoli attacchi di cistite potete provare a utilizzare una pianta che è il Condodrendron tomentosum che dal punto di vista scientifico viene anche definita Pareira brava la Pareira brava è una pianta originaria del nord america e della famiglia delle ericace e in fitoterapia viene utilizzata la radice o la pianta fresca per preparare la tintura madre con la quale vengono poi impregnati i granuli omeopatici non ha effetti collaterali può essere somministrata anche in età giovanile anche ai bambini o alle donne in gravidanza senza alcun problema un'altra pianta che potete utilizzare per gli attacchi di cistite è l'uva ursina l'uva ursina si usa esclusivamente la tintura madre oppure l'infuso l'uva ursina praticamente è un prodotto che ha un principio attivo che è l'arbutina che è proprio un antibatterico a livello delle vie urinarie l'arbutina va ad agire prevalentemente sui batteri che amano l'ambiente basico ecco perché quando vi somministriamo o vi consigliamo di utilizzare l'uva ursina viene anche consigliato di basificare le urine utilizzando alimenti oppure del bicarbonato di calcio in questa maniera potenzieremo l'effetto dell'uva ursina può essere utilizzata senza effetti collaterali nel dosaggio di 60 gocce 3 volte al giorno per almeno 7 giorni proprio come se fosse un antibiotico nell'adulto oppure anche come prevenzione si può utilizzare l'infuso 1-2 tazze al giorno ricordate che non va usata per periodi troppo prolungati dopo 2-3 settimane è opportuno fare un'interruzione almeno di 10 giorni arrivederci e buona serata ci fermiamo per una breve interruzione tra poco torniamo in onda con la terza ed ultima parte del nostro telegiornale continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 25 minuti trasmetteremo greglie di partenza alle 22.15 la rubrica Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.15 Decoder puntata dedicata al cinquantesimo del CAI di Clusone alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche sul canale al numero 218 del Digitale Terrestre alle ore 21.30 sempre su questo canale alle 22.10 trasmetteremo Target e il servizio ci porterà a Pisogna dove è stato conferito un riconoscimento all'artista bulgaro Cristo sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Antena 2 Sport mentre alle 22.30 griglie di partenza dal Manacco domani sabato 23 luglio il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 21.6 minuti la durata del giorno è di 15 ore e 18 minuti la luna sorge alle 22.57 e tramonta alle 10.56 del giorno successivo la fase lunare a luna è calante ed è visibile al 73% ecco le previsioni del tempo su tutti i settori cielo irregolarmente nuvoloso con qualche maggiore addensamento e possibili brevi rovesci o temporali sparsi le massime saranno in lieve calo e con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi ringraziamo per la vostra attenzione